Ciao amici e benvenuti a questo nuovo video dove andremo ad aprire qualcosa di nuovo andremo ad aprire Disney 100 Mr. Infigure che si possono trovare questi di qua dei personaggi che tutti noi conosciamo e che ci sono fortunati troviamo Wally e Alice che sono uno dei due preferiti miei e poi andremo a spacchettare questa bustina di origine perduta tanto per spacchettare un po' di Pokémon che onestamente Scratto Violetto non ci piace andiamo aspetta intanto vuoi tagliare tu? no vabbè tagliato tagliamo io allora intanto iniziamo da spacchettare origine perduta senza aver tagliato la carta ma mi sa che qualche cosa abbiamo tagliato intanto togliamo direttamente la bustina con della bustina altra bustina sempre bustina sempre bustine andiamo ad aprire senza tagliare la carta le carte allora intanto ho già visto una carta intanto forse abbiamo un codicino nero che porta sempre fortuna e lo coloro codicino a voi andiamo a fare il trick che tanto manca uno, due, tre, quattro uè, 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 quattro speriamo di trovare come dicono tante youtube la geratina abbiamo un energia gastrodonne allenatore Archefone Medichamp Poliwag c'è una carta Gligar Glomi Mawil sei fortunato sei fortunato e abbiamo un Del Pox Del Pox vabbè dai niente male niente male questa è la fortuna di Jedis ogni tanto si trova qualcosa di interessante e ora apriamo questo questo lo provo io lo provo io ora apriamo si apriamo da qua si tanto tagliacqua andiamo ad aprire ora Disney 100 figure e lo apro io che poi andremo ad acquistare qualcosa di speciale allora tu cosa dici che troviamo qui io dico che troviamo il culetto che non c'è il culetto piano dai mettila questa parte l'apri tu mamma cosa dice che troviamo niente niente vai piccoli stragatto 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 oh abbiamo trovato lo speciale guardate che fortuna che dovrebbe essere uno di questi qua due che sono quasi introvabili che fortuna che bello topolino e quanto quanto pesa tieni è bellissimo ma io ce l'ho sto topolino ma è spettacolare che fortuna corrotto chissà 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 quanto vale 0 euro 0 euro allora